Eccoci qui, buongiorno a tutti, 29 ottobre 2020, vediamo un po' cosa ci riserva alla giornata, dopo che ieri è stata bella tosta, inutile dirsi che la discesa è stata bella tosta, probabilmente in questi termini inaspettata perché comunque il movimento è stato veramente ampio. Comunque, vediamo un attimino, spero che il webinar di ieri sia stato interessante, scusate ancora i problemi tecnici che ci sono avuti ma è il bello della diretta, diciamo, come direbbero in televisione. Ok, dai, partiamo. Avviso di rischio, la negoziazione con strumenti finanziari CFD e azioni ETF offerte da Admiral Markets comporta un livello elevato di rischio che non è adatto a tutti gli investitori a causa della loro natura complessa. Prima di stipulare un'operazione e effettuare una transazione, sicuro che di leggere i termini e le condizioni del nostro servizio, consultare uno specialista se necessario per assicurarsi di comprendere i rischi connessi al trading. Questo contenuto è sulla scopo informativo e didattico. I contenuti sono sviluppati da Admiral Markets AS e distribuiti da Admiral Markets Gruppo AS, aziende di investimento per un pubblico globale. Pertanto tenete presente che le informazioni contenute in questa sessione potrebbero non essere adattate. Per ottenere le informazioni corrispondenti su grafici, condizioni e altri dettagli, visitare admiralmarkets.com, selezionare il paese di residenza e contattare l'entità appropriata. Questo contenuto è sulla scopo di informazione generale, ma è destinato a fornire consigli di trading o di investimento o raccomandazioni personali. Qualsiasi informazione relativa alla performance passata di un investimento non garantisce necessariamente la performance futura. Admiral Markets non sarà responsabile per qualsiasi perdita subita direttamente o indirettamente, derivante da qualsiasi investimento basato su qualsiasi informazione contenuta in questa presentazione. Le informazioni non sono rivolte a residenti negli Stati Uniti, in Belgio, non sono destinate alla distribuzione o all'utilizzo da parte di persone in qualsiasi paese o giurisdizione in cui dalla distribuzione o all'utilizzo sarebbero contrari leggi o regolamenti locali. Ok, tra qualche mesetto magari la so anche in memoria. Ok, perfetto. Allora, andiamo in piattaforma direttamente con il nostro caro vecchio Bondax. Allora, siamo proprio in un punto di svolta, nel senso, di svolta, un punto ad aprire completamente gli occhi, nel senso che è un'area veramente ampia e minima di ieri, però io vorrei assolutamente che non vengano rotte. Io avevo segnato come punto di approdo eventualmente dalla discesa, nel caso avessero rotto i minimi, i 600. Adesso spostiamo un attimino sui minimi di oggi. I 450 quest'area non deve essere assolutamente rotta, perché se dovesse essere rotta per il mio si assisterebbe a una giornata molto simile a quella di ieri, purtroppo. Però a differenza dell'altra ho paura che ci siano molte più tensioni sui prezzi, false rotture, movimenti strani. Ieri è stata una giornata, tutto sommato, difficile entrare, più che altro psicologicamente per prendere un movimento del genere, però interessante, nel senso che comunque il trend è stato solido. E quindi, diciamo, era possibile farlo, utilizzarlo, ecco, fare trading su questo trend. Ho paura che la rottura di questi minimi potrebbe veramente tante tensioni sui prezzi e un capovolgimento del mercato in maniera forte e sinceramente non lo traderei, lasciare andare completamente il mercato e aspetterei che si fermasse, ecco, sotto questo punto di vista. Nel senso che andiamo in una zona, non dico di ignoto, perché comunque ci sono dei livelli, però vi dico la verità, è molto randomica la cosa, nel senso possiamo dire, fino agli 11.600 che dicevo ieri, secondo me aveva senso, povera, vederla, di prendere rimbalzi, ecco. Se mi rompo i minimi di ieri, ok, possiamo avere gli 11.350, gli 11.857, però la vedo veramente, oltre che lontani questi livelli, perché a parte il 300 che può essere lì, gli altri sono belli lontani, gli 11.850, eccetera. Quindi non lavorerei corto nel mercato, ma eventualmente aspetterei di ricomprarlo più basso e lavorerei, lo farei calmare, ecco, sotto questo punto di vista, perché comunque sarebbe un coltello veramente che cade. Operazioni ribassiste non le andrei a fare, nello stesso, in ogni caso, perché comunque, come dicevo, può partire uno short squeeze, per dire, perché non so questo cos'è, una ripartenza veloce, forte, che mi va a strappare i livelli e magari mi incasino dentro in una posizione short, dopo una discesa del genere, sempre un po' difficoltoso. Quello che andrà a fare, quello sì, allora, mi piacerebbe molto il DAX, invece, se dovesse andarmi a rompere l'area degli 11.700. Vediamo un attimo, potemi vedere su altro monitor, ma sì, ma anche i massimi di oggi, vi dico la verità, non per forza quest'area. Se mi dovesse rompere, anzi, siamoci i massimi che ha fatto oggi, proprio questa notte, se dovesse rompermi quest'area dei massimi, sinceramente mi piace, mi può interessare, per andare a lavorare all'ottica di rialzo. Ecco, rialzo che ha come primo target, sembrano grosse queste candele, però è un 15 minuti, però la volatilità è stata veramente ampia. Quindi il rialzo, sopra questa zona, sotto qui, in mezzo non lavorerei, vi dico la verità, non mi piace né sotto qui, né sotto i minimi. Sopra i massimi di oggi, quindi sopra i 650, più o meno, devo andare a lavorare con i target dei 7.30, 7.20, 7.20, ed eventualmente, rotti questi, è ancora l'operazione più bella, rotti i massimi, questa zona di massimo, teniamocela bene, la più bella ancora sarebbe, sopra i 7.60, ecco, riuscire ad andare a prendere i 9.29. Secondo me sarà una giornata un po' interlocutoria, se non mi rompo i minimi, ho paura che mi vada a lavorare costantemente, tutto il tempo in quest'area, quindi sarà una giornata, un po' una giornata, c'è per fare trading sugli 11.00. Ecco, soprattutto anche, dobbiamo tenere aperte gli occhi, che il fatto che, scusate, oggi abbiamo 29, quindi il 3 sulle elezioni di Trump, quanti giorni mancano ancora? Aspettate, 29, domani, quanti giorni di borsa abbiamo aperti? 1, 2, 3, sostanzialmente 2 giorni di borsa, quindi le tensioni saranno belle ampie, le news che arriveranno anche da là, oltre che il nostro Covid, saranno propedeutiche a movimenti veramente erratici e difficoltosi, ecco, stiamo un po' con i remi in barche in questi giorni. Eurostox, Eurostox sta navigando sostanzialmente sul supporto che avevamo detto, vediamo un attimino, torniamo sullo, esatto, su questo qui che avevamo individuato ai 2.951, l'ha preso abbastanza bene, stesso discorso del DAX, molto simile, nel senso che comunque tensioni sui prezzi, finché non mi va a rompere il massimo di oggi, io non voglio andare a lavorare, non lavorerò in questa zona di massimo, però risulta interessante, per lo stesso motivo, la rottura, andare a lavorare subito in questa zona, quindi scatterebbe subito una buona operazione, nella rottura di 2.975-2.80, con target 3.000, quella è veramente una buona operazione da fare, mi piace molto, perché comunque questa zona verrebbe, secondo me, recuperata molto velocemente, eventualmente alla rottura, ci credo poco oggi, giornate interlocutorie, secondo me, alla rottura anche di questo massimo, vedo un forte recupero, il forte recupero sopra i 3.014, che porterebbe sostanzialmente al recupero di tutta questa quotazione, teniamoci come area eventualmente resistenziale, i 3.044, sarebbero una bella quarantina di punti, però la più improdusibile, secondo me, è la rottura dei 2.976, con il target dei 3.000 punti. Sotto i minimi, stesso discorso di DAX, potrebbe incasinarsi veramente tanto la situazione, non andare a lavorarlo, né meno qua, qua in mezzo, anche se sono tanti punti, in tanto conto sono l'1 e qualcosa per cento, non mi piace qua in mezzo, dico la verità. S&P, allora S&P, 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 anche lui bella discesa, leggermente più mitigata rispetto ai nostri indici europei, partiamo un attimino dal giornaliero, a vedere come siamo messi. Ok, siamo a rutto l'ultima zona di supporto, la zona di supporto che dicevamo, è in questa zona, diciamo che, allora, a differenza degli europei, la situazione è un po' più costruttiva, nel senso che abbiamo comunque queste zone che possono fermare tranquillamente la caduta. Vediamo, vediamo perché, essendo soprattutto l'S&P sotto elezioni, può essere, anch'esso proprio ideutico per forti movimenti. Stesso discorso, allora, eventualmente qui una rottura ribassista si potrebbe andare a lavorare nel tardo pomeriggio, quello sì, quindi sotto i 3.270. Vediamo un attimino se riusciamo su un H1 a trovare qualche zona può essere interessante. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Sicuramente non vorrei che ci sia... Ho fatto una linea verde adesso. No, ho sbagliato. Allora, vediamo un attimo. Lista oggetti, lasciamo lì, dopo la cancellerò dopo. Non si riesco a muoverla. Ok, perfetto. Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Abbiamo sostanzialmente questa zona, andiamo a prendere un bel... Può essere interessante questa zona, eventualmente come target dell'operatività short. Una rottura di 3.270 può essere interessante il target di 2.340, più o meno, questa zona, quello può essere interessante per un'operatività short. Teniamo presente che io preferirei lavorarlo al rialzo nel momento in cui mi va a rompere un po' questo massimo, un po' come sugli europei, dove abbiamo tutta quest'area che ci portiamo dietro da qualche giorno, qualche settimana sostanzialmente, quest'area target. Quindi, la più bella operazione secondo me sarebbe la rottura dei massimi 3.320 con target intorno a 3.340-3.550, un 1% di mercato. Tanto vedo DAX che sta prendendo un po' di forza, meno male, vediamo un pochino se ci rompe i massimi come speriamo. Ecco, quindi è questo. Qua in mezzo non mi incasinerai troppo a fare operatività, anche se, essendo più calma la situazione, eventualmente abbiamo un pochino più zone di supporto. Ecco, quest'area mi piace come supporto, però non andrei a operarla. Eventualmente, quest'area di supporto, l'unica operazione che si potrebbe fare è, nel caso in cui mi dimostrasse forza, l'area di 3.284 con un target eventualmente i massimi di giornata di oggi. Ecco, però, io voglio vederlo sopra al massimo. Nasdaq. Nasdaq è, sostanzialmente, sull'ultima area di supporto, vedetela qui, l'ultima che avevamo tracciato precedentemente. La Bucate poi ha recuperato, sostanzialmente. Copione già visto, nel senso che teniamo come ultimo valoardo, eventualmente facciamo l'S&P, non facciamo il Nasdaq in ottica ribassista, sotto i minimi. Magari guardiamo in correlazione, se, come dico sempre, di lavorare in correlazione tra due indici. Ecco, infatti, correlazione tra due indici, dicevo, e eventualmente la rottura dei due minimi, guardiamola, se sono correlati tra S&P e Nasdaq nel pomeriggio, eventualmente tendiamo a shortare l'S&P, sarei più confident nello shortare l'S&P e non il Nasdaq perché è sempre proprio devuto a movimenti un po' più esplosivi e un po' più difficili, soprattutto in questa fase, in questi giorni che c'è tanta volatilità, lavoriamo sull'S&P che è leggermente meno volatile del Nasdaq e veramente un cavallo imbizzarrito sotto questo punto di vista. La rottura dei massimi, bella, mi piacerebbe, togliamo questa zona che non mi interessa, vi dico la verità più. La rottura di questi massimi di 11.307 è veramente interessante perché abbiamo veramente poche zone di resistenza in questa zona e avremmo un target veramente bello a 11.400. Togliamo i 400 per essere calmi, ecco, sotto questo punto di vista. quindi una rottura di 308 avremmo un bel 100 punti, sì, 400, 410, un bel 100 punti da lavorarlo chiaramente nel pomeriggio. Adesso vediamo, facciamo lavorare gli europei. Questa mattina nel pomeriggio una rottura di questi massimi confermata magari su un retest può essere veramente interessante, ottimo per andare a lavorare su 400, un bel 100 punti di operazione, secondo me. È forse la più bella, vi dico la verità, rispetto anche all'S&P, eccetera. In ottica realzista è quella che mi piace di più nel pomeriggio. eventualmente realzista, ok, possiamo provare a utilizzare il Nasdaq, ribassista, lasciamolo lì perché non mi piace troppo volatilità, troppa, troppa. Euro-Dollaro, Euro-Dollaro, allora, cannato completamente, sincero, nel senso che la forza che avrei voluto vedere non c'è stata, adesso siamo sull'ultima area di supporto che, sull'area di supporto che da cui è partito questo movimento, vediamo se tiene questa zona. Vediamo, qui purtroppo, cioè purtroppo, stanno influendo secondo me molto le notizie macro, è vero, non bisogna chiedergli perché, ma lavorare la zona, però comunque, purtroppo l'epidemia in Europa sta dilagando completamente, quindi ho paura che l'euro stia perdendo un po' di forza per questa motivazione. Vediamo se tiene questa zona, anche qui, è molto influenzato da quello che accade, oltre che all'epidemia, dalle elezioni, perché è inutile dirsi, l'euro-dollar è uno di quelli che verrà maggiormente influenzato, come cambio, sotto questo punto di vista. Se volete, guardate il webinar delle elezioni che c'è sul nostro canale YouTube per vedere un pochino che ragionamenti si possono fare, soprattutto come comportarsi durante le elezioni, visto che ormai siamo pronti, ecco, sotto questo punto di vista. Niente, abbiamo quest'area di supporto, la solta, 17.2, 17, sì, 17.2, può essere, potrebbe tenere, anche se vi dico la verità, non ho una grande idea su questo cambio per il semplice motivo che sta lavorando da tanto tempo in questa zona. Vediamo se tiene, può essere interessante. Abbiamo come primo target quest'ennesima zona dove ha resistito, diciamo che questo movimento l'ha già fatto ieri, praticamente, però può essere ancora interessante se lo tiene. Primo target, magari 17.7, interessante, magari la metà può dare la posizione, un po' come il solito lavorare, e successivamente l'area di 18.2 per l'ultima metà della posizione. Successivamente qui starei flat nel caso di rialzo, starei flat e non lavorerei. Eventualmente se dovesse perdermi quest'area può essere interessante togliere questo perché è veramente troppo vicino come supporto, provare a vedere se c'è davvero la news forte, magari la rottura in volatilità del livello per andare a vedere se riusciamo ad andare a prendere la rottura dei minimi dei 16.9 per prendere quest'area target 16.75 sembra che sto sparando i numeri a caso però 1.16.27.5 scusate per un'operazione che potrebbe essere interessante ecco vediamo un po', si decide molto su quest'area per me può essere interessante perché essendo che c'è un po' di volatilità sul mercato si può fare anche un po' di trading intraday in questi casi sull'euro dollaro Allora sterlina sterlina è scesa completamente anche qui mi aspettavo un po' più un po' meno di debolezza di dollaro però è scesa eventualmente avevano detto la rottura di queste minimi sarebbe propedeutica per un target questa zona si è fermata a metà per come si sta muovendo la situazione come sta muovendo l'euro dollaro la vedrei a questo punto più ribassista e continuerei a lavorarla in ottica shortness cambia un po' idea nel senso che comunque vedo che la situazione abbastanza nonostante questo recupero che ha fatto ieri è un po' compromessa sulle valute europee che chiamavano così sterlina e euro e tendenzialmente avrei come era target i 28,65 quest'area continua a essere target importantissimo è vedere questo minimo chiaramente la rottura eventualmente se ci posizioniamo short qui ci darà una conferma grossa del movimento in atto la rottura del minimo di ieri come al solito sappiamo che la rottura di massimi e minimi di mercati tendenzialmente porta all'aumento del il mercato tende ad andare nella direzione della rottura sono molto importanti sempre sono visti dagli operatori massimi e minimi del mercato quindi rottura del minimo può essere interessante appunto per vedere un pochino se c'è questa questa forza per arrivare in questa zona target i 28.6 a livello rialzista non andrei a lavorarla perché non mi piacerebbe vedo un gran caosco in questa zona solamente la rottura dei 30.77 avrei come target il nostro massimo quello famoso la nostra area che ci eravamo tanto illusi che si scatenasse un movimento per un po' di volatilità un po' di volatilità direzionale per andare a prendere un bel trend invece purtroppo è tornato dentro però la rottura dei 30.75 diciamo 77 può essere propedeutica per il ritorno nell'area dei 31.56 che è sempre una zona che ho come target per la ripartenza di un movimento rialzista però vediamo un attimino a questo punto immagino un po' stelezioni tra oggi e domani non so quanto movimento ci sarà però i mercati si muovono tanto quindi o meglio le azionare si muovono tanto potrebbero con le news eccetera dare un po' di volatilità anche le valute vediamo un po' dollaro yen siamo arrivati a target ieri proprio dopo la dopo la registrazione dopo vediamo sì dopo dopo poco dopo ricordate che famoso short alla rottura di questi minimi e poi al ritest oltretutto prima rottura di short di questi minimi avevamo preso target questa zona vi ricordate poi al ritorno su questi massimi era interessante sempre shortare il mercato con mezza posizione lasciarla in questa zona e l'altra posizione lasciarla in questa zona ora siamo arrivati a target dopo un'operazione del genere tendenzialmente io stare un po' la finestra nel senso di capire se questi minimi possono essere importanti per una ripartenza oppure no vediamo un po' perché se dovesse esserci debolezza su euro-dollaro e su sterlina-dollaro la mia idea è quella che potrebbe rimanere molto fermo il cambio nel senso che lo yen in ogni caso si è apprezzato probabilmente per il rischio che stanno per il rischio coronavirus eccetera yen valuta di riserva vediamo di capire un pochino secondo me sarà un cambio che si incastrerà un pochino in questa zona e non andrà da nessuna parte nel brevissimo periodo o meglio fino alle elezioni post elezioni sarà un altro mondo diciamo però fino alle elezioni secondo me c'è un paio di giorni che si catalizzerà in questa zona quindi potremmo eventualmente se chi vuole fare operatività veloce nell'area dei 104 e 10 effettuare operazioni rialziste con i target sempre 104 e teniamo quest'area quest'area di massimo 104 e 56 teniamo questa zona qui secondo me starà dentro in questi giorni vediamo un pochino la rottura di questi minimi non mi piacerebbe perché più che altro sarebbe una caduta nel vuoto per quello che mi sembra non so quanto possa cadere come dicevamo ancora ieri perché veramente dopo sarebbe un bel galoppamento galoppamento intorno ai 103 perché qua in mezzo non vedo veramente la vedo veramente ultra volatile magari dopo nel pomeriggio mi soffermo un attimino a fare un'analisi di cosa c'è qua in mezzo però la vedrei veramente un crollo un crollo veramente grosso vedete come qui ha lavorato su ehm probabilmente se ne sono già accorti tutti ma l'ora solare scatterà solo il primo momento sì 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 assolutamente alle 14.30 aprono le borse americane scusate in chat sì sì l'avevamo già detto l'avevamo già detto settimana scorsa però giusto giusto ricordarlo settimana scorsa inizio settimana giusto ricordarlo che alle 14.30 aprono i mercati americani che bisogna stare sempre attenti perché comunque cambia un pochino l'equilibrio non so perché ma io che seguo entrambi non so sono due settimane due settimane che meglio una settimana sì una settimana e mezza non mi ricordo quando è entrata che è un po' diversa la giornata non so perché mi influenza un po' la cosa gli automatismi vanno un po' vanno un po' in crisi però a parte quello torniamo noi due e mezza 21 le borse le borse quindi sono quelli gli orari più interessanti sull'S&P e Nasdaq quindi dicevo vediamo un attimo la rottura però vi dico dovrebbe veramente partire qualcosa di cioè dovrebbe veramente secondo me l'epidemia prendere una piega ultra incontrollata da lockdown veramente in tutta Europa comunque anche peggio di marzo stiamo andando in questa direzione però qua era molto dell'effetto panico ecco panico da non so come dire da prima volta da prima pandemia che era una cosa tutta nuova basta vedere cosa ha fatto l'S&P in quei giorni o i nostri mercati rispetto a quello che stanno facendo adesso che è vero sono scesi tanto in questi giorni ma non c'è proprio paragone quello comunque vediamo un po' secondo me quest'area regge e starà ferma qui per un po' di tempo a capire cosa vuole fare il cambio e eventualmente lavoriamolo nel breve termine questo allora gold 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 vedete che le correlazioni come dicevamo anche in un altro webinar poi andiamo velocemente che sono già un quarto sono andato a quel paese nel senso che come dicevano le correlazioni sono da usare per fare trading ma a livello di investimento diciamo che sono un po' quello che è perché dopo con una salita con una discesa del genere delle borse e l'apprezzamento dello yen per dire il gold lo avremmo dovuto trovare a 1951 per dire invece è sceso anche lui misteri quindi lavoriamo sul grafico in questo caso vi dico la verità io non l'ho lavorato però avrei fatto un'operazione brutta sono sincero nel senso che o meglio probabilmente avrei lavorato no per come è sceso non sarei entrato perché è troppo sceso con troppa fretta vediamo ora visto che ha fatto questo minimo possiamo sfruttarlo non è bellissimo per il semplice motivo che vi ricordavate che io la mia operazione tipo era proprio quella della rotura di questi minimi con il target in questa zona sarebbe stata la mia che aspetto da giorni questo minimo me lo sporca un pochino perché comunque si trova qua in mezzo e la mia paura è che vada a inficiare un po' il movimento nel senso che mi vada magari a perdere questa zona ok però mi va a rimbalzare su questo minimo è un po' brutta vi dico la verità non mi piace questo minimo che ha fatto penso che l'abbiate capito il motivo perché mi sarebbe piaciuto che il mercato si fermasse a 1865 per avere spazio libero di movimento è vero possiamo provare la rotura dei minimi di ieri per andare a target di 1862 però sono veramente quanti pochi dollari non non mi non mi piace vi dico la verità non mi piace piuttosto vediamo se c'è altre tensioni che se torna un po' di correlazione provare alla rotura di questi massimi dei 1884 con un target della zona qui della midpoint diciamo di quest'area che sono i 1900 1905 può essere interessante purtroppo mi ha rovinato molto questa operazione non mi piace più non mi piace più vi dico perché comunque è vero se rompe questi minimi arriverai in questa zona secondo me questa zona sarà cruciale nel breve periodo però così non la farei più non ho rischio non saprei stop loss sarebbe veramente lontanissimo sarebbero 10 punti di stop loss per andare a prenderne 7-8 cioè no non mi piace non mi piace più vediamo teniamo presente questo massimo eventualmente per un long crude oil siamo a target finalmente 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 abbiamo preso il nostro secondo target bella 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 questa operazione un po' speculare al dollaro yen sembra un po' lo stesso lo stesso grafico bello ora chiaramente dopo un movimento del genere che abbiamo preso tutto il ribasso vediamo cosa può fare vediamo cosa può fare nel senso che anche qui sono veramente cruciali questi minimi che vanno fino ai 36 e mezzo vediamo un po' per come va l'aria il vento della situazione macro vi direi che sarei più propenso per un ribasso perché a questo punto si sta fermando tutto come sembra si sta fermando vediamo un pochino sul grosso cosa può essere vedi 36 e 5 teniamoci aggiorniamoci domani sotto questo punto di vista vediamo oggi lasciamolo interlocutore per capire il movimento eventualmente una rottura dei 36 e 5 abbiamo subito 34 e mezzo vi dico la verità perché comunque si salterebbero moltissimi veramente tanti stop sotto questa zona e secondo me partirebbe un movimento veramente forte ai 36 e 34 e mezzo 34 e sì 34 e mezzo 34 e 6 in primis e poi anche i 31 e 2 però fare una previsione del genere è veramente troppo perché non abbiamo qua in mezzo zone teniamo presente che eventualmente sì un'operazione di non di intraday ma di qualche giorno potrebbe essere la rottura dei 36 e mezzo per andare a prendere i 34 e mezzo quello sì può essere interessante come cosa perché 34 e mezzo può essere un bel supporto che può catalizzare il mercato perché vedete come sono questi due minimi massimo massimo qui comunque è una zona che ci ha lavorato una chiusura due chiusure di una candela quindi quello sì 36 e mezzo short con 34 e mezzo come target per un'operatività un pochino più di ampio respiro nel brevissimo vediamo un po' perché comunque è vero potrebbe prendere una bella forza rialzista la rottura dei 38 però non lo vedo sinceramente possibile come cosa e dai 37 e 2 ai minimi vediamo prendiamo un attimo orario poi chiudiamo perché siamo andati lunghissimi oggi quasi mezz'ora anzi quasi mezz'ora fino alla rottura dei 34 e 30 e mezzo non lavorerei in questa zona perché secondo me è zona di tensione di prezzo e non mi piace non mi piace assolutamente allora calendario economico per chiudere perché poi mamma mia siamo lunghi 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 niente di particolare oggi sinceramente è più da seguire ah no assolutamente cavolo dico oggi c'è la BCE c'è la BCE 13 e 45 con la decisione dei tassi di interessi secondo me non ci cambierà cambierà molto e 14 e 30 la conferenza dovrebbe essere un bel rosso qua non capisco perché e il PIL trimestrale degli Stati Uniti alle 13 e 30 quindi sì 13 e 30 14 e 30 zona zona rossa da mano lontano dal mouse si fa in 3 day e poi vediamo come reagisce quindi 13 e 30 PIL statunitense e poi 13 e 45 BCE che dirà immagino che magari dia un po' di tranquillità ai mercati nuovi soldi quanti tv qualcosa del genere e poi 14 e 30 appunto parla e ci spiegheranno cosa vanno a fare niente anche per oggi abbiamo fatto lunghissimi 9 e 18 vi lascio al buon mercato e niente ci raggiorniamo domani e grazie mille